Ciao a tutti, benvenuti su Paperless Prinks, io sono Martina e oggi andiamo a vedere insieme due nuove funzioni introdotte con iOS e iPadOS 15 che sono Full Immersion e le notifiche. Allora, ho parlato di funzioni nell'intro ma in realtà una è una funzione che poi già esisteva ma è stata completamente ridimensionata mentre le notifiche non è che siano una nuova funzione ma semplicemente sono state ridisegnate. Comunque le andiamo a vedere perché per l'appunto ho delle notifiche quindi andiamo a vederle insieme in modo da capire un po' meglio come sono state ridisegnate. Allora, partiamo dalla Full Immersion. Che cos'è la Full Immersion? È una modalità che ci permette di concentrarci su qualcosa. Esistono infatti già preimpostate delle Full Immersion, c'è quella personale, quella per il lavoro, quella non disturbare, la classica non disturbare, la Full Immersion riposo se avete già impostato la modalità sonno. Quindi avete diversi tipi di Full Immersion già preimpostati. E possiamo scegliere una delle opzioni che sono già state create da Apple e che sono studiate già bene, ovviamente perché si tratta di Apple quindi non è che fa le cose così a caso. Però appunto se quelle non sono di vostro gradimento potete andare o a modificare quelle Full Immersion oppure a crearne una personalizzata in modo da poter ricevere solo le notifiche che vogliamo mentre siamo in quella Full Immersion e anche da vedere delle schermate o delle applicazioni preferite solo in quella Full Immersion. Possiamo decidere appunto se concentrarci su un'attività personalizzata, sul fitness, sulla lettura e in questo modo andare a creare una Full Immersion che ci permetta proprio di concentrarci solo su quello. Come si attiva la Full Immersion? Dal centro di controllo trovate l'attivazione della Full Immersion qua. Se voi cliccate sul tondino della Full Immersion vi attiva o vi disattiva la Full Immersion attualmente mostrata. Se invece cliccate proprio sul pulsantino Full Immersion vi entra in questa schermata dalla quale potete scegliere una delle Full Immersion già preimpostate o andare a crearne una nuova. Allora, i tre puntini come vi dicevo vi permettono di decidere per quanto attivare quella Full Immersion. È molto carino perché c'è per un'ora fino a stasera, fino a quando non me ne vado da qui, casa, oppure fino alla fine del prossimo evento. Io adesso appunto ho questo evento in cui sto registrando dei video e se clicco lì sopra lui mi attiverà questa Full Immersion fino alla fine di questo evento. In impostazioni ovviamente mi apre le impostazioni di quella Full Immersion e posso andare a cambiarle. Vediamo un attimo quali sono le impostazioni così almeno questa cosa la facciamo già. Da qua posso attivarla o disattivarla ma quello lo posso fare anche dal centro di controllo quindi mi è più semplice. Qui non posso aprire perché appunto ci sono magari nomi e numeri di telefono. Ho le persone che possono contattarmi tramite... quando sono in quella Full Immersion ovviamente si sta parlando di chiamate e notifiche provenienti da persone e app. Quindi se vi manda una persona che non c'è in questo elenco un messaggio su WhatsApp ma voi avete per esempio lasciato attivo WhatsApp durante quella Full Immersion vi arriva lo stesso anche se è da una persona che non è nelle persone consentite. Qui ci sono le app consentite quindi le app da cui possono arrivarvi le notifiche quando siete in quella Full Immersion e potete aggiungere tramite questo pulsantino mentre se attivate notifiche urgenti vi permette anche alle app non incluse in questo elenco di inviare delle notifiche contrassegnate come urgenti. Dopo andremo a vedere che io ho una notifica contrassegnata come urgente che lui ha deciso di contrassegnare così da solo però quando vi arriva la notifica vi chiede se volete disattivare quelle notifiche o comunque se volete non renderle urgenti. a me per esempio quelle di Things risultano sempre come urgenti non so perché però io ho lasciato così perché sono delle notifiche a cui tengo e quindi mi va bene che me le segnali come urgenti. Poi potete andare a decidere lo stato di Full Immersion se volete condividerlo o meno quando vi arriva un messaggio però in messaggi non Whatsapp o altro solo in messaggi viene comunicato alla persona che vi ha scritto che abbiamo al momento le notifiche disattivate e potete l'altra persona può decidere se mandarvi lo stesso la notifica poi potete scegliere una schermata personalizzata una pagina personalizzata questa è una cosa molto carina adesso andiamo a vedere come si fa e posso anche nascondere i badge delle notifiche sulla home io ho lasciato attivo tanto non mi interessa per la schermata di blocco possiamo attenuarla quindi appunto si vede tutto molto sfocato e le notifiche disattivate e vi chiede se volete che vengano mostrate nella schermata di blocco possiamo anche aggiungere un orario o un'automazione per esempio attivarla al momento opportuno durante la giornata quando apro un'app quando sono in una determinata posizione oppure in un orario fantastica questa cosa e infine posso eliminare una Full Immersion andiamo a crearne una nuova allora per creare una nuova Full Immersion come abbiamo visto prima possiamo farlo dal centro di controllo o da qua prima però andiamo a creare un'altra schermata perché voglio farvi vedere come funziona allora facciamo una cosa andiamo a spostare un widget che abbiamo già così almeno non creo problemi ecco lo mettiamo qua e come sapete se tengo premuto su questi due puntini io posso andare a nascondere momentaneamente questa schermata ok quindi quella schermata io la nascondo quindi io di norma non la vedo vedete io non la vedo quella pagina lì se invece io vado in Full Immersion facciamo che voglio iniziare una Full Immersion personalizzata mettiamole questo colore mettiamo tipo social perché agenda appunto io la uso per i social come sapete possiamo scegliere un'icona non saprei ma mettiamo questa vabbè tanto qui posso andare a raggiungere appunto le persone tramite aggiungi e chiamate da preferiti io ho tra i preferiti le persone appunto che mi possono dover chiamare anche quando sono impegnata e quindi sono già a posto poi app consentite qui potete andare a giostrarvela proprio come preferite e notifiche urgenti poi c'è scrittura può iniziare la Full Immersion attiva ovunque quindi quando la attivi su un dispositivo viene attivata su tutti ma questo si può anche disattivare dopo vedremo come centro di controllo quindi la posso attivare e disattivare dal centro di controllo e posso scegliere la schermata home ecco come vi dicevo posso scegliere la schermata pagine personalizzate io metto questa quindi quando attivo quella Full Immersion mi mostra solo questa pagina poi andremo a vedere posso cambiare il nome aspetto schermata home schermata di blocco eccetera quel discorso che vi dicevo prima è condividi sui dispositivi se questo lo avete attivato come vedete quando attiviamo una Full Immersion su questo dispositivo verrà attivata anche sugli altri che utilizziamo allora attiviamo social così vi posso mostrare che come vedete io non ho più la prima pagina ma ho solo questa pagina che io sono andata a modificare con la Full Immersion vedete che qua su in alto vi appare l'iconcina della Full Immersion e per disattivarla semplicemente clicco qua e la disattivo adesso vedete che è sparita la pagina di quella Full Immersion e quindi sono tornata come ero prima per quanto riguarda le notifiche invece come vedete sono state ridisegnate e sono più rotonde quindi sono un pochino più rotondeggianti viene mostrata la foto dei contatti anche per esempio su Telegram è carino perché c'è l'icona di Telegram e poi un'iconcina piccola che vi mostra la foto del gruppo o della persona che vi sta contattando vengono riepilogate vengono messe tutte insieme in un riepilogo di tutte le notifiche del giorno e vengono organizzate in base alla priorità con le più rilevanti in cima e poi come vi dicevo prima le notifiche di Things vengono segnalate come urgenti qui vi chiede vuoi lasciare attive le notifiche urgenti provenienti da Things questo consente a Things di recapitare le notifiche importanti immediatamente io metto lascia attive perché appunto mi interessa che siano attive altrimenti potete disattivare quella cosa e non vi vengono mostrate quindi come vi dicevo sulle notifiche non c'era tantissimo da dire però appunto dato che era un nuovo design ho deciso di inserirlo in questo video detto ciò noi ci vediamo martedì prossimo con un video su Procreate perché anche di Procreate è stato introdotto un nuovo aggiornamento importantissimo quindi appunto cerco di ricapitolare un po' tutte le cose che sono state introdotte e ve le mostro in un video se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like iscrivetevi al canale tramite il pulsantino qua sotto e attivate la campanellina delle notifiche per non perdere nessun nuovo video questo video finisce qua noi ci vediamo martedì ciao